Sono Luigi Vargio, titolare di Strogoff Marketing Online. In Strogoff ci occupiamo di web marketing, ovvero di teleattività utili alle aziende per farsi conoscere, vendere, acquisire richieste di preventivo, eccetera, tramite internet e i suoi strumenti. Siamo in Sardex da un anno, infatti siamo al giro di Boa e adesso rinnoviamo per l'anno prossimo. Abbiamo deciso di entrarci per due motivi soprattutto. Uno, diciamo, filosofico, nel senso che ci piace l'idea di lavorare in Sardegna con aziende sarde che si sostengono a vicenda. E anche in senso economico, perché comunque acquisiamo nuovi clienti grazie al Sardex e troviamo nuovi fornitori e quindi ci possono essere utili per far crescere l'azienda. La Sardex è un circuito di credito commerciale in cui le aziende di uno stesso territorio, in questo caso la Sardegna, si sostengono a vicenda e lavorano insieme scambiandosi bene i servizi in cambio di Sardex. È quindi una specie, per come la vedo io, di baratto indiretto, mettiamola così. Se dovessi definire Sardex con un aggettivo sarebbe reale, perché Sardex è una bella idea ma, ancora di più, è un'ottima realizzazione. Quindi è reale, esiste, funziona. È sorretto da aziende che ci credono e anche da un sistema come quello di Sardex composto da tante persone, compresi i broker che ci aiutano ogni giorno a fare nuove affari, ma a far girare la nostra economia, che lavorano alla grande e sono sempre disponibili. Spendere i crediti è molto facile per quanto mi riguarda. Comunque sono una piccola azienda e trovo le altre aziende che mi permettono di acquistare beni e servizi utili per la mia attività. Ultimamente ho comprato per la mia azienda attrezzatura per l'ufficio, ad esempio, da un'azienda di quarto, iscritta al circuito. Uso Sardex anche per le spese personali. Infatti da poco ho chiesto anche un preventivo per, ad esempio, la tinteggiatura di casa mia oppure vado a comprare l'abbigliamento in Sardex. Quindi mi trovo bene e trovo i giusti canali. Grazie al Sardex ho trovato nuovi clienti, clienti che tra l'altro non avrei mai potuto raggiungere da solo, anche perché il mio lavoro è molto particolare e quindi già essere trovato dai clienti implica che sappiano quello di cui hanno bisogno. Grazie al Sardex ho raggiunto aziende di dimensioni diverse e parti diverse della Sardegna. I vantaggi per la mia azienda sono molti. Primo fra tutti credo il vantaggio di conoscere meglio anche il imprenditorio, il tessuto comunque imprenditoriale della Sardegna. Infatti credo che il Sardex da questo punto di vista sia una cosa meravigliosa che ci permette di metterci in connessione gli uni con gli altri, sia lavorando banalmente insieme, ma anche dal punto di vista umano. Perché la prima cosa che si chiede a un'azienda del circuito è da quanto tempo sei nel circuito? Ti trovi bene? Ci si dà del tu immediatamente. E c'è un rapporto molto più vero, perché stiamo contribuendo tutti alla fine alla stessa economia. con ricadute positive sia nelle nostre tasche, ovviamente, ma anche nel sistema in generale Sardgo, perché ci sostiene ma vicende. Mi piacerebbe che Sardex in futuro si evolvesse un po' dal punto di vista organizzativo. Intendo per organizzativo il fatto di poter usare le nostre tessere pseudo-bancomat, realmente come tessere magnetiche, ecco. Perché mi trovo ad andare magari a mangiare in ristorante, oppure a comprare qualcosa e a dover perdere tempo per far inserire i dati agli operatori, cioè ai miei fornitori, oppure a dovermi ricordare i codici Pina, eccetera. Un sistema post sarebbe l'ideale, ma immagino che sia una cosa breve. Consiglieri assolutamente l'iscrizione al circuito alle aziende che non soltanto vogliono aumentare il proprio parco clienti, ma che credono nel fatto che noi in Sardegna sappiamo lavorare, lavoriamo, e che vogliono sostenere la nostra economia. Perché il circuito siamo noi.